ben ritrovati carissimi amici di auto occasioni oggi mi trovo per voi da luciano moto siamo qui con atos lo vera ciao atos ben trovata ben due sedi dove si può trovare davvero il mondo delle due ruote è proprio così elisa del world of motor cycles sede principale casal grasso in via circondazione 49a dove potete trovare oltre 1500 moto in pronta consegna moto e non solo anche tre quattro ruote e poi la sede di cuneo lo store di cuneo dove potete trovare tutti i marchi sono praticamente una ventina che rappresentiamo ufficialmente come concessionali come vedete dalle immagini abbiamo aperto in indian la vera leggenda americana e però vogliamo aprire la puntata con una grandissima novità si elisa c'è proprio una grande novità inauguriamo a inizio anno la nascita dell'imrg indiana sabauda che è un motoclub riservato ai proprietari indian e non solo è prevista anche appunto la partecipazione dei vari simpatizzanti e passeggeri che avrà proprio come come sponsor la luciano moto con contanto di clubhouse e vantaggi ricchissimi riservati appunto ai soci quindi invito tutti voi appunto a rimanere aggiornati seguendo tutte le nostre pagine social facebook instagram e il nostro sito perché appunto vi informeremo con tutte le novità puntata dedicata interamente all'usato si elisa oggi davvero una puntata ricca di novità andiamo a presentare alcune delle nostre moto usate perché la differenza davvero la facciamo con le oltre mille moto usate che abbiamo vi presenteremo moto completamente pari al nuovo e quindi prive di alcun tipo di difetto che verranno consegnate a domicilio gratuitamente per i nostri amici telespettatori che ci contattano da val d'aosta piemonte liguria e lombardia per cui potete scegliere la moto fare l'acquisto comodamente da casa vi arriva sotto casa tutte quante tagliandate completamente coperte da due anni di garanzia acquistabili o nel metodo tradizionale quindi prezzo e soldi da una parte e oppure con la nostra esclusiva operazione 50 per cento quindi non solo la comodità ma naturalmente anche prezzi imperdibili prezzi imperdibili e la qualità davvero che da sempre contraddistingue le nostre moto usate chieftain dietro di te subito vostra a 9.950 euro con la nostra operazione 50 per cento abbiamo una bellissima scout anche lei con pochissimi chilometri coperta da due anni di garanzia e tantissimi accessori a 7.450 euro stessa cosa per una bobber con 2.000 chilometri anche lei già col kit passeggero scarichi borsone in cuoio due anni di garanzia anche lei a 7.450 euro la teppista di casa indiana l'effettiera alle nostre spalle questa è subito vostra a 4.950 euro e sempre nel nostro reparto custom potete acquistare l'entry lever di harley davidson la nyster 975 subito vostra a 6.950 euro poi abbiamo una sportster 1250 s anche lei nuovissima con 5.000 chilometri che subito vostra a 7.950 euro e poi una softail standard anche lei nuovissima con meno di 10.000 chilometri che subito vostra a 7.950 sempre con la nostra operazione 50 per cento e abbiamo raggiunto michael nel reparto under 18 ciao michael ciao elisa ciao a tutti allora novità anche qui ma soprattutto usato questa è la puntata dedicata all'usato sì esatto come anticipato da atos questo mese dedicato proprio all'insegna dell'usato questo è il nostro reparto under 18 oltre 100 veicoli disponibili oggi vi proponiamo una bellissima tnt 125 di casa benelli prodotto unico proprietario con appena mille chilometri disponibile con un fortissimo sconto a partire da 995 euro con la nostra esclusiva operazione 50 per cento prodotto adatto a tutti e peso appena superiore ai 110 chili quindi semplicissima da gestire consumi risori e questa è dotata di bauletto quindi se dovete fare piccole commissioni metterci lo zaino comunque un po di comodità e fa proprio al caso vostro michael si continua in brixton esatto elisa prodotto perfetto pari al nuovo unico proprietario con a malapena 10.000 chilometri versione abs quindi top di gamma sicurissima e questa in particolare le sue due borse laterali per per poter trasportare oggetti di piccola dimensione vi ricordo consegna gratuita nelle regioni qui vicino piemonte liguria valle d'aosta e lombardia si continua con l'usato e siamo nel reparto crossover categoria crossover la più venduta elisa anche qua novità dell'anno transalp 750 travel edition subito vostra a 6.950 euro e una nuovissima cb500 appena rodata anche lei cb500x con tantissimi accessori subito vostra a 3.250 sempre con la nostra operazione 50 per cento sempre qua in categoria abbiamo la trk 502 strada ancora da rodare 500 chilometri subito vostra a 2.450 e una versi 650 anche lei ultima serie con meno di 10.000 chilometri stella comfort cavalletto centrale top case paramani e paramotore subito vostra a 3.950 ripeto anche qua tutte quante con la garanzia totale che copre praticamente le moto nuove parliamo di moto di quest'anno e anche qua idem come sopra le potete acquistarle tranquillamente seduti sul divano ve le consegniamo a casa gratis in piemonte liguria lombardia val d'aosta so che molti la conoscono già l'operazione 50 per cento ma ricordiamo o comunque diciamola per chi non la conoscesse ancora molto volentieri elisa potete acquistare la moto spendendo soltanto la metà per due anni o tre a seconda poi del piano che scegliamo avete tutta la manutenzione ordinaria scontata del 50 per cento dalle tabelle ufficiali sia per quanto riguarda il materiale che per quanto riguarda la mano d'opera soltanto alla fine poi dei due anni potete decidere cosa fare della metà che manca vi siete innamorati potete semplicemente finire di pagarla non la volete più riportatecela anziché pagare la metà rimanente noi vi rimborsiamo almeno il 30 per cento di quello che avete speso Atos abbiamo raggiunto il reparto naked e sportive che cosa ci presenti? Cara Elisa qua siamo appunto nel reparto dedicato a chi ha voglia di togliersi un po' di adrenalina contiamo più di 300 moto per cui praticamente di tutte le case partiamo da una Hornet 750 nuovissima che ho ritirato da una mia amica lei proprio personale che ha 3.000 chilometri sorpassa i 10.000 euro dal listino del nuovo moto ancora in garanzia ufficiale Honda fino al 2029 subito vostra a 3.950 euro andiamo in casa apriglia tuono 660 subito vostra 4.450 660 factory subito vostra 4.750 8.950 per portarvi via la tuono V4 factory riempita veramente di accessori 8.950 anche l'RSV4 ripeto tutte quante con due anni di garanzia ci siamo spostati ad Akashi quindi vuol dire che ci siamo spostati in Giappone Atos bravissima Elisa qua tra le verdone ricordo che parliamo sempre di moto che hanno praticamente appena finito il rodaggio garantite come se fossero nuove ok quindi Z650 euro 5 plus subito vostra 2.950 Z650 RS guidabile il compatente A2 subito vostra 3.250 e Z900 anche lei con 2.000 chilometri subito vostra a 4.250 euro proponiamo anche una bellissima XSR900 blu anche lei soltanto con 2.000 chilometri e subito vostra 4.950 euro impossibile Atos non trovare la moto dei propri sogni bravissima Elisa le abbiamo veramente tutte e tutte quante perfette e garantite qua davvero facciamo la differenza Concludiamo in questo reparto parlando di sogni parliamo di Ducati e mi stavi accennando Primatos che qui la pronta consegna c'è anche su questa bravissima Elisa la moto più desiderata del 2024 ha tanta gente e metto che ad aspettarla più di sei mesi multistrada RS per cui di nuovo motore desmodromico con frizione a secco questa è costata nuova oltre 44.000 euro scarico a Krapovich ha tantissimi accessori che potete che potete vedere controllare sul nostro sito subito vostra impronta consegna a 18.950 euro sempre con la nostra esclusiva operazione 50% Abbiamo raggiunto il reparto dedicato a BMW non manca davvero nulla parliamo di comfort ma allo stesso tempo prestazioni Si Elisa siamo appunto qua nel reparto dedicato esclusivamente alle moto di BMW soltanto per i nostri amici tele spettatori abbiamo disponibile una 1300 GS anche qua la più venduta full optional quindi anche col dispositivo che permette col semplice tastino di abbassare o alzare la moto a vostro piacimento subito vostra a 13.950 euro poi per la serie NNT abbiamo una racer subito vostra anche questa a 6.450 euro e una scrambler subito vostra a 5.450 euro fa poi capolino alle nostre offerte per quanto riguarda appunto BMW un adventure 1.250 euro anche le full optional completa delle tre valigie subito vostra a 9.950 euro Il nostro tour non finisce qui da Luciano Moto continuiamo e andiamo nel reparto scooter E stiamo raggiungendo Michael come potete vedere dalle immagini nel reparto scooter e quadro anche qui tantissime proposte Esatto Elisa abbiamo oltre 300 scooter disponibili in pronta consegna e partiamo con Kimco X-Sighting 400 con a malapena 6.000 km ed un prezzo d'attacco formidabile 2.950 euro Scendiamo un pochino di cilindrata KRV200 ideale per la città già dotato di ABS e controllo di trazione Veicolo unico proprietario con 3.000 km a 1.995 euro Passiamo la palla in Yamaha T-Max 5.60 Splendido ricchissimo di accessori a solamente 6.450 euro Ancora tantissime proposte Michael Sì assolutamente ci spostiamo proprio sul nostro cavallo di battaglia La gamma quadro vi ricordo essere gli ultimi ad avere i veicoli disponibili chilometro zero Nuovi di fabbrica in pronta consegna ma anche splendide occasioni QV3 di un bellissimo rosso 15.000 km unico proprietario a 2.950 euro Ed infine quadro scooter veicolo pagato qui da noi nuovo oltre 14.000 euro Unico proprietario pochissimi chilometri ma ricchissimo di accessori Parabrezza maggiorato, paramani, frizione 5 masse proprio per dargli la massima grinta anche in pendenza E antifurto quadro e tantissimi accessori a soli 3.950 euro Non manca davvero nulla qui da Luciano Moto Ovviamente non abbiamo potuto far vedere tutto quello che avete Perché parliamo della concessionaria più grande d'Europa Ma dove possono venire non solo a toccarle ma anche a provarle Sì ripetiamo appunto l'indirizzo della sede principale Che è qua dove stiamo registrando Casa al Grasso Che è semplicissimo trovarci, è impossibile non vederci Siamo sulla stradale che va da Torino verso Saluzzo Una ventina di minuti dalla città di Torino proprio Per cui facilissimi da raggiungere Qua trovate praticamente tutto quello che abbiamo nuovo e usato E poi ricordo a tutti appunto lo store di Cuneo In via Veccellio 6 dove potete trovare tutto il nuovo che rappresentiamo ufficialmente Come dicevi Elisa davvero è impossibile far vedere tutto quello che abbiamo Perché non abbiamo soltanto moto e scooter Ma microcar, siamo concessionari Polaris e Kawasaki per quanto riguarda i quad Bici elettriche ma anche qua la mobilità elettrica è ben fornito tutto il reparto Ricco appunto anche di eco-incentivi statali Tutte queste offerte sono valide esclusivamente per voi amici telespettatori Per cui avrete i nostri numeri, mio e di Michael Con cui potete direttamente scriverci Indicando appunto che volete informazioni per la promo Motori TV Verrete contattati al più presto Potete appunto definire l'acquisto a distanza E ricevere la moto dei vostri sogni direttamente a casa gratuitamente Grazie Atos come sempre Grazie a te Elisa Grazie a Michael Grazie a te E naturalmente un grazie a tutti voi Vi aspetto alla prossima puntata Ciao